Eccoci qui, eccoci qui, buongiorno venerdì 21 maggio, venite anche oggi ad abbeverarvi alle fonti, parleremo di vacanze, parleremo dell'estate che è alle porte, parleremo di vacanze che sarà alle porte sotto il profilo soprattutto della gestione degli effetti collaterali della pandemia che è ancora in corso, anche se come abbiamo ricordato fortunatamente i profeti di sventura sono stati smentiti, le riaperture decise a partire dal 26 aprile, decise dal governo Draghi, non sono state fino a oggi, fino a questo momento portatrici di un incremento dei casi di positivi, categoria molto lasca perché puoi essere positivo asintomatico, positivo con sintomi blandi, conoscete il mio punto di vista quindi non lo ribadisco, dico profeti di sventura sono stati smentiti perché i contagi sono in calo mentre invece aumentano le vaccinazioni, il combinato disposto come si dice di queste due circostanze, di questi due fattori dovrebbero lasciare intuire, presagire che alle viste c'è un'estate che dovremmo gestire e vivere in relativa tranquillità, poi ciascuno si regolerà come crede sull'uso delle mascherine semmai dovesse essere abolite, però insomma tante questioni, sullo sfondo poi ci sono le cosiddette fibrillazioni del periodo del governo, Enrico Sottiletta il segretario del PD che ha tirato fuori questa ipotesi della tassa di successione per costituire un fondo per i giovani, per carità poi tassa di successione, si può anche ritenere che se uno eredita un patrimonio complessivo di 1.200.000 Euro e gli viene chiesto l'1%, 12.000 Euro, cosa sono 12.000 Euro su un regalo che ti arriva in eredità, erediti un patrimonio mobiliare, immobiliare, materiale di un milione e due, dai 12.000 Euro allo Stato, bene, anche 5%, 60.000, perché no? Tanto se hai ereditato gratis puoi anche dare 60.000 Euro allo Stato, il problema è che magari la persona che eredita, pensate mio figlio in prospettiva, eredita un patrimonio che può essere ritenuto importante, 1.200.000 Euro, composto di beni immobili, immobili che sono il frutto del lavoro mio e di mia moglie, del piccolo appartamento ricevuto in eredità dai miei genitori, sommato a 40 anni di lavoro su cui ho pagato regolarmente le tasse, la prima casa l'ho comprata a 50 anni, ho preso il mutuo, continuo a pagare oneri, contributi, spese su gli immobili, quando c'è da tassare la casa e il banco e tutto, alla fine tasse su tasse su tasse su tasse su tasse, quando mio figlio eredita tutto, deve pagare un'altra tassa, prima gli italiani, prima gli italiani che non le pagano le tasse magari, ma perché non dire invece andiamo a caccia dei grandi evasori fiscali, quelli grandi, i grandi evasori fiscali, ma perché non dire tassiamo i colossi del web? No, nel senso che è una polemica che si trascina per i giganti del web che fatturano e hanno bilanci multimiliardari e poi si va a fare il confronto per quello che hanno fatturato in cassato e quello pagato di tasse è ridicolo, almeno in Italia, ma ci sono le norme europee, le dinamiche, gli accordi precedenti, il Lussemburgo, i Parasili fiscali, ho capito, alla fine andiamo sempre a martellare su chi magari le tasse di riffa o di raffa nella vita le ha sempre pagate. Abbandoniamo questo terreno che è scivoloso, non mi va di fare retorica, do il benvenuto al sindaco di Tropea Giovanni Macri, che è con l'accento sulla i, anche se in rete stamattina sono andato a verificare in qualche sito e senza accento, Giovanni Macri, Giovanni Dettonino, sindaco di Tropea, la quale Tropea è stata eletta a città Borgo dei Borghi da una trasmissione della RAI che è arrivata all'ottava edizione e mi sembrava quindi giusto, ricordando tutti quelli che ci guardano, non andate all'estero adesso perché si può tornare a viaggiare, non andate all'estero o meglio, se volete andare all'estero andate all'estero, io sono un liberale e un liberista, però l'Italia è piena di meravigliosi posti, sia in montagna per chi ama la montagna, io no, sia al mare, da 20 miglia dalla riviera di Ponente Ligure a quella di Levante, scendendo per la Toscana, il Lazio, la Campania, la Basilicata, la Calabria e dall'altra parte partendo dal Friuli, scendendo per tutto il mare Adriatico, poi ci sono le isole, le piccole, le grandi, la Sicilia, la Sardegna, ma perché dovete andare in Grecia, perché dovete andare in Spagna, a rischio magari poi di beccare l'ennesima variante e riportarla in Italia, state in Italia, andate dove vi pare, visto il premio a Tropea, parliamo con il sindaco di Tropea, buongiorno sindaco. Buongiorno Antonello, grazie per avermi invitato. Allora, com'è andata questa votazione, ve l'aspettavate, avete fatto opera di lobbying, avete coinvolto i telespettatori della RAI, cosa avete fatto? Sicuramente abbiamo fatto opera di lobbying, sicuramente, quindi è andata benissimo, meglio non poteva andare, abbiamo avuto un risultato importante venuto dal voto popolare, quindi abbiamo sicuramente approfittato della conoscenza che c'è nel pubblico della città, Tropea è una città internazionale, quindi si sono mobilitate diverse comunità anche all'estero sul voto attraverso la piattaforma RAI, quindi abbiamo avuto un'affermazione importante sul voto popolare, grazie al voto popolare, che poi ovviamente ha giocato una parte decisiva il voto della giuria tecnica. Però, voglio dire, dietro questo c'è stato un grande lavoro, quindi da parte di tutti i calabresi e non so, di tutte le persone che hanno avuto, magari si sono scontrati o hanno fatto meta in questa città che sicuramente gli avrà lasciato qualcosa di positivo, una qualche emozione che poi, bella, un ricordo bello che ha portato poi chi è passato a Tropea a darci una mano d'aiuto, quindi votando e poi portandoci alla vittoria. Dunque, il voto dei calabresi nel mondo e il voto della giuria tecnica, tra cui ad esempio ricordo lo storico dell'arte Jacopo Veneziani, Tropea definita la perla del Tirreno per completezza di informazione, devo dire che in questa edizione del Borgo dei Borghi, Tropea, la Calabria, preceduto Baunei, quel di Nuoro, cioè la Sardegna e Geraci Siculo, quel di Palermo, in Sicilia, entrambe bellissime località, però appunto quest'anno il trofeo, il titolo si è aggiudicato Tropea. Allora Sindaco, intanto quanti abitanti fa normalmente Tropea quando non c'è la stagione turistica e quanti ne ha con la stagione turistica al netto del Covid, diciamo, in una situazione fisiologica normale? Allora, poco più di 6 mila abitanti, di cui 600 concentrati nel borgo, quindi nella città vecchia, nella parte antica della città. Quando arriva l'estate ovviamente la popolazione flottante va da, passiamo dai 15 mila, con punte magari che arrivano, l'andiscono i 50-60 mila abitanti. Abitanti, cioè non solo abitanti quindi pernottanti, ma bisogna tenere conto del fatto che Tropea è l'unica città in senso stretto di quel litorale che viene comunemente definito escluso pizzo, costa degli dei, Nicotera, però per quanto riguarda la parte più richiesta, quindi Capovaticano, Parghelia, Zambrone, è l'unica vera propria città, quindi tutte le persone che vanno a villaggiare in queste località dove ci sono, si concentra il grosso dei posti letto, poi il giorno, anzi direi la sera, ci ritroviamo a Tropea. Quindi la città, l'amministrazione va a gestire qualcosa immediatamente come un 60 mila persone che poi ovviamente vanno gestite dal parcheggio ai vari servizi, quindi è un'opera importante, oserei dire titanica. Tropea è un fazzoletto di territorio, 3,2 chilometri quadrati di territorio, spiagge ormai ridotte all'omicino per via dell'erosione costiera, è il punto di imbarco in assoluto più vicino all'isola Eole, quindi abbiamo anche un traffico enorme verso quella direzione, parliamo di circa 4-5 mila imbarchi giornalieri per due, quindi tra notte rientri partenze, quindi c'è da gestire un sacco di cose, quindi abbiamo un peso enorme che grava sulla città. Come vi state preparando voi, ma è una tematica che riguarda ovviamente i sindaci di tutte le località turistiche italiane, vi state preparando a questa stagione estiva? Perché è evidente che ancora sono in vigore delle norme, non voglio dire di restrizione, ma sicuramente di regolamentazione, financo credo alla distanza che in teoria e in pratica dovranno ad esempio osservare i bagnanti in spiaggia, quindi gli stabilimenti balneari, gli accessi, gli orari, esattamente, intanto qual è il rapporto fra un comune di una regione che si deve rapportare a norme che arrivano da Roma? Allora, diciamo quest'anno, l'anno scorso si navigava a vista, ricorderai quante improbabili soluzioni venivano prospettate, ombrelloni chiusi, cercintati con il plexiglas, distanziatori anche in acqua, insomma cose assurde, ridicole, grottesche. Quest'anno non si è arrivato ancora a dire queste stupitaggini, sì, onestamente si naviga a vista, io per esempio quando si è accennato a fine aprile, a primi di maggio alle restrizioni agli orari ho immaginato, ed infatti così sta avvenendo, che via via con l'incedere della stagione quelle limitazioni invasive sugli orari, quindi 10, 22, 23 sarebbero via via cadute, cosa che sta avvenendo, quindi al 21 giugno non avremo più coprifuoco, immagino che qualcosa del genere si possa verificare nel mese di luglio inoltrato sulle mascherine all'aperto, sicuramente così sarà sulle spiagge. Guarda, noi ci affidiamo molto al senso di responsabilità dei villeggianti, sicuramente tropea, questo è un dato che viene confermato dalle prenotazioni, anzi luglio va a verse tutto esaurito, agosto non abbiamo sicuramente problematiche, quindi ci aspettiamo un ultra tutto esaurito, un overbooking addirittura, settembre dovrebbe essere pure così, se non si verificano problematiche particolari. Giugno sta partendo, quindi anche fine maggio stanno arrivando delle prenotazioni importanti, quindi noi ci affidiamo molto sul senso di responsabilità di chi verrà a fare vacanza a tropea, uno. Due, io non sono stato mai un ipocrita, quindi ho sempre detto che se si decide di fare turismo e qui bisognerebbe anche capire la differenza che c'è tra turismo balneare in sesso stretto e turismo di montagna, magari in montagna riesci da un lato a moderare la domanda, dall'altro a dare delle regole più stringenti. Quando si tratta, quando arriva l'estate, io credo che sia difficilissimo fermare gli italiani, quindi o dargli delle regole o contingentare l'accesso nelle spiagge piuttosto che nel centro storico, quindi bisogna essere realistici, affidarsi al senso di responsabilità degli italiani, credo che questo non manchi, affidarsi alla campagna di vaccinazione che devo dire anche per esperienza personale, in quanto organizzatore è partita, procede bene e sono convinto che darà dei risultati, anche quello che hai detto in premessa, lo testimoni, dei risultati importanti che ci darà finalmente quella serenità per ripartire una volta per tutte. Sì, mentre ascoltavo il singolo di Tropea mi è venuto in mente che la buonanima Benito Mussolini diceva governare gli italiani non è difficile e inutile, perché certe volte in presenza di fenomeni di massa, sì è vero che tu puoi cercare di intervenire in base al principio di autorità con la forza pubblica, le forze dell'ordine, poi quando vedi 30 mila tifosi dell'Inter che si radunano per lo scudetto a Piazza del Duomo, o blindi la città e metti i carri armati per le strade in modo che la gente non si assembri o altrimenti, come è stato deciso a Milano, città amministrata dal mio amico Beppe Sala, hanno lasciato correre con la speranza che non ci fosse dopo quell'evento una riesplosione di casi che almeno per quanto riguarda Milano, ma non solo Milano, al momento toccando ferro e tutti gli amuleti non c'è. Però Sindaco, un tema di dibattito a proposito della campagna di vaccinazione che è stato sui giornali, ha visto contrapposto il governo centrale di Roma e molti governatori, molti presidenti di regione, detto più precisamente, i guardi hanno detto che il problema c'è per la campagna di vaccinazione, possiamo farla anche noi pensando e prevedendo che si possa fare anche al mare le località turistiche, perché no? E allora qui il dibattito è se io ho fatto la prima iniezione, la prima inoculazione in città, la seconda la posso fare al mare e se lo vaccino… e quindi come la state vivendo dal vostro punto di vista? Se io partissi da Roma e venissi a Tropea e dovessi fare la seconda dose, voi siete d'accordo che io lo posso fare da voi? Oppure preferite dire, ma noi non ci infiliamo, pensiamo ai residenti nostri e a quelli che arrivano in vacanza, provveda qualcun altro, per capirci? Io la penso assolutamente, sono in linea, sintonia perfetta con quello che ha detto il governatore Zaia. Il turista è sacro e quindi va accolto, coccolato e reso durante la vacanza, bisogna dargli la massima serenità, deve stare tranquillo. Aggiungo Antonello, e forse qualcuno questo lo dimentica, che ai vacanzieri in senso stretto si aggiunge la grande fetta di lavoratori stagionali, cioè è assurdo che un ragazzo, un operatore stagionale che viene da Milano a Tropea a lavorare debba rientrare nella sua regione a farsi il vaccino, cioè è una cosa veramente ridicola, se parliamo tanto di eliminazione delle barriere dei confini, è veramente questa cosa assurda. Zaia ha dato anche una spiegazione tecnica, ha anche spiegato come la cosa potrebbe procedere, quindi l'amico di Milano che viene a Tropea a lavorare piuttosto che in vacanza farà la seconda dose qui, gli verrà rilasciato un certificato su carta che poi quando ritornerà a Milano verrà caricato dal suo medico o comunque dall'ASP locale nel sistema e quindi risulterà vaccinato. Quindi è una cosa molto semplice, peraltro aggiungo che ho sentito anche l'opinione del generale Figliuolo, il quale non è che si è spesso negativamente, ha detto che valuterà le proposte, vuole capire, quindi non ha detto un no, non si farà, vuole capire bene come si può fare questa campagna al mare o nei luoghi di villeggiatura. Secondo me si arriverà a questa soluzione, la ritengo una soluzione di buonsenso, necessaria e molto logica, anche per alleggerire il peso di determinate regioni che magari hanno fatto tanto e quindi mandare anche in ferie e a riposo quel personale impegnato nella vaccinazione. Quindi si potrebbe concentrare nelle località dove ora si lavora un peso diverso, quindi aggravare queste località di un ulteriore peso. Ci sono le risorse, ci sono le capacità, noi tutti gli esperimenti che abbiamo fatto sulla vaccinazione hanno dato esito positivo, quindi io sono d'accordissimo e sono convinto che si arriverà a questa soluzione, che è logica. Scusi, queste parole di apprezzamento nei confronti del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dipendono dal fatto che c'è una, glielo chiedo per curiosità, c'è una corrispondenza di amorosi sensi anche politica? Cioè lei da quanto è sindaco eletto con quale coalizione di partiti o listo civiche o movimenti o quel che vuole? Forza Europea si chiama la mia lista, quindi penso di avere risposto. Sono di Forza Italia da sempre, quindi ho una grande simpatia sia col Senatore Salvini che conosco, sia grande ammirazione verso il Governatore del Veneto che purtroppo non conosco e mi piacerebbe conoscerlo, lo ritengo una persona molto capace e ha dato prova di questo sia quando era Ministro dell'Agricoltura che in questa circostanza è molto attento, si vede che è una persona che ama il proprio lavoro, la propria terra e straspare chiaramente da quello che fa quotidianamente, quindi è evidente ed è bravo. Anche Bonaccini in Emilia-Romagna mi pare, per par codice lo dico, mi pare un amministratore… Io non ho difficoltà a riconoscere, la mia valutazione vale poco o nulla, a riconoscere le chiare capacità in governatori e sindaci che stanno dall'altra parte politicamente parlando della barricata, quindi ci sono tantissimi esempi di bravissimi amministratori sia a sinistra che ovviamente dalla parte nostra, quindi nel centro-vestre. Sicuramente Zaia è uno di questi, Bonaccini che conosco meno, anche dal punto di vista amministrativo, lo seguo meno, Zaia devo dire la verità lo seguo molto di più, è un buon esempio di bravo amministratore. Uno dei grandi temi è il rapporto, temi politici intendo, è il rapporto fra il cosiddetto centro e la cosiddetta periferia del paese. Da questo punto di vista, Tropea che è la perla del tirreno in una regione, la Calabria che purtroppo vive momenti e passaggi talvolta tormentati, ricordo, perché me ne sono occupato l'autunno scorso, la tormentata questione del commissario straordinario alla sanità calabrese che ha visto una girandola di candidature, di nomine che poi c'erano soggetti nominati, dopo 48 ore si dovevano dimettere. Il sindaco, credo che non solo il sindaco, si ricorderanno questi passaggi anche un po' esilaranti, perché la Calabria purtroppo dal punto di vista della sanità ha questo pregio, gode di avere un commissario straordinario credo ormai da dieci anni. In questi tre anni la valutazione, te la chiedo non come sindaco di Tropea, come politico di centrodestra, noi in tre anni, questi ultimi tre anni, da quando c'è stata la nuova legislatura con le elezioni del 4 marzo 2018, in tre anni abbiamo cambiato tre governi, la media, tre anni, tre governi, marzo 2018, marzo 2021. Il governo giallo-verde con Giuseppe Conte, il governo giallo-rosso o giallo-rotto con Giuseppe Conte 2 e questo di Mario Draghi con dentro partiti che nelle precedenti due tornate governative erano o al governo o all'opposizione, adesso stanno insieme. L'unica all'opposizione è rimasta Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia. Nei rapporti con la periferia, questi tre governi, al netto del fatto che tu ti sei dichiarato e sei stato eletto con una lista di centrodestra, Forza Tropea, hai notato delle variazioni, dei cambiamenti tra il Conte 1 e il Conte 2 e tra il Conte e Mario Draghi? Sicuramente tra il Conte e Mario Draghi, sì, ho notato delle importanti differenze. Però posso dire una cosa, per esempio, il primo Conte, il primo e i Comuni una certa attenzione che si è tradotta in una serie di erogazioni, quindi di contributi che ancora sono in piedi. Sono stati contributi preziosi per gli enti locali, quindi c'è stato un rapporto diverso con gli enti locali, con i comuni in particolare. però guarda, sicuramente con Draghi, però il tema Draghi Conte oggi si può ridurre, vista l'emergenza, all'approccio rispetto a quello che è il problema alla pandemia e sicuramente chi non veda come con Draghi sarà per un discorso di tempi, sarà per un discorso legato ai vaccini che sono arrivati, di qualcosa si è vista. Con l'ingresso di Figliuolo che ha nominato lui, le cose sono cambiate e questo non si può negare. Io ho visto col governo Conte una grandissima approssimazione nella gestione della pandemia e anche tutte quelle cose ridicole che abbiamo sentito sono frutto di evidentemente qualcosa che non andava c'era, qualcosa che non andava c'è stato. I risultati prodotti non sono stati all'altezza dei sacrifici fatti dagli italiani. Poi, per esempio, da sindaco di una località turistica importante come Tropea, per esempio alcuni tagli ai comuni, penso alla COSAP, chiamiamola oggi l'imposta unica, sui suoli pubblici, per esempio non ha senso beneficiare i ristoratori di località come Tropea che di fatto non hanno avuto i problemi delle grandi città come Milano, Firenze che hanno veramente sopperto la fame. Da noi in quei mesi, l'imposta in realtà è commisurata alla stagione, quindi di fatto loro avrebbero pagato e oggi sono stati sentati quei periodi di occupazione. Quindi sono state beneficiate delle categorie, nel mio caso, che sicuramente potevano essere tralasciate a beneficio di altre. Quindi c'è stata una politica generale non concordata con la periferia che ha prodotto magari degli arricchimenti libri. Non so se mi sono spiegato… No, benissimo, anzi devo dire che il ragionamento, Sindaco, ti fa onore perché riconoscere che poi in effetti se ci pensate bene non è così assurdo, cioè una località come Tropea o come è un'altra località di mare, quando vive d'estate. Quindi il lockdown primaverile sì ha pesato, ma ha pesato… in primavera normalmente non è che ci sia l'assalto a località di mare, magari a Pasqua, magari per il ponte del 25 aprile, però poi arriva la stagione, il fatturato si fa nei mesi estivi. Quindi bene o male l'anno scorso di Riffa o di Raffa, con tanti problemi annessi e connessi, però le località turistiche hanno lavorato come più o meno le stagioni precedenti. In città le cose sono state differenti, ha ragione il Sindaco, quindi apprezzo questo riconoscimento sul fatto che magari un maggior coordinamento per non fare una cosa che nell'appiattimento ha creato dei dislivelli, perché poi c'era chi in effetti ha patito davvero e tanto purtroppo e chi magari ha patito, ma ha patito molto meno o non ha patito affatto, perché la stagionalità degli interventi e dell'andamento del virus è stato diverso tra l'estate, la primavera e l'autunno e tra le località cittadine e le località turistiche. Chiudiamo con una cosa Sindaco, Tropea è famosa per la cipolla, non solo per questo, non è che lei si sentisse, ritenesse il mio giudizio una diminuzio di Tropea, ma anche la città della cipolla rossa di Tropea, cipolla IGP, IGP non so cosa voglia dire, però quando io vado al supermercato… Sì, geografica protetta. Ok, perfetto, grazie. Ma io quando vado nei supermercati a fare la spesa, e ci vado davvero, e trovo tanti modelli di cipolla di Tropea, sono tutte cipolle di Tropea o vengono denominate così in franchising, diciamo così. No, in francesi no, c'è tanta contraffozione anche sulla cipolla, tu pensi che sono stati sequestrati quantitativi enormi di cipolla rossa provenienti dalla Cina, piuttosto che dal Cile, con prezzi che addirittura superano quelli della cipolla rossa di Tropea, cipolla rossa di Tropea, Calabria Tropea. Questa è la denominazione corretta. E poi ovviamente il consumatore capisce la differenza quando se la trova sulla tavola, se magari se ne trova due capisce cosa significa la dolcezza del nostro prodotto. Peraltro non mi offendo quando si parla di Tropea collegandola alla cipolla, è una regina, è un prodotto che ha reso famoso Tropea forse ancora prima del turismo, quindi di questo ne abbiamo beneficiato. La cipolla è sulle tavole ed è utilizzata dagli chef più importanti al mondo, quindi anche nominare ogni volta quando si parla di cucina, oggi sai, non lo devo dire io, è uno dei temi più utilizzati, c'è uno dei temi che fa più breccia nel pubblico, ecco la cucina, lo show cooking sono dei temi molto importanti. Ho letto che c'è l'attore americano John Turturro che sta girando una serie sul cibo italiano e dovrebbe fare tappa anche a Tropea o ho letto male? Io so, guarda, di John Turturro non so chi sia, lo so di Stalle Itucci per la CNN. Esatto, sì, scusami, no ho confuso io, Stalle Itucci, scusami, Stalle Itucci, sì, che sta girando per la CNN un viaggio tra le prelibatezze del nostro paese e che dovrebbe fare tappa… È la seconda edizione, sì, la prima è andata in onda lo scorso anno sulla CNN, è stato un grande successo, sempre sull'Italia, quest'anno dovrebbe scendere verso il sud e potrebbe anche arrivare qui da noi, dovrebbe essere qui la troupe della CNN nella settimana entrante per fare una verifica. Bene, allora in bocca al lupo ovviamente non diciamo… Viva il lupo! Viva il lupo al mio amico chef Cuoco, come lui ama definirsi, Filippo Lamantia, siciliano, il quale invece detesta sia la cipolla che l'aglio e il soffritto in genere. Io invece sono patito della cipolla bianca, rossa e poi tra l'altro fa pure bene. Va bene, allora in bocca al lupo sindaco, crepi il lupo, viva il lupo per la stagione estiva al sindaco di Tropea, a tutti i sindaci delle località turistiche italiane, intanto voi passate un buon… voi che ci state visualizzando qui su LeFonti.tv un buon weekend, noi ci ritroviamo lunedì mattina puntuali alle 10. Buon weekend a tutti, grazie sindaco! edo Grazie a tutti.